Beggi Pierino e nome di battaglia Gigi. Dove sei nato? A Reggio Emilia. E dove vivevi? Beh, la maggior parte, fino a vent'anni, ho vissuto dove attualmente c'è la Biasola, là il parco, parco diciamo locale, lì c'era il podere che c'era mio papà che faceva il contadino, era l'agricoltore, e noi eravamo i figli che siamo cresciuti lavorando con lui. Poi a vent'anni siamo stati chiamati alle armi, a quei tempi abbiamo fatto tre anni, io ho fatto tre anni nel genio a Torino, poi siamo trasferiti a Bardonecchia e siamo rimasti lì per tre anni. L'8 settembre siamo stati, diciamo, prima di partire c'era arrivato l'ordine dal generale Vercellino di minare la galoria del Freios perché i tedeschi venivano dentro con i carri armati e il treno merce con tutto l'equipaggio. Abbiamo portato dentro, allora dicevano, 14 quintali di esplosivo da far saltare la galeria del Freios e infatti è stata fatta saltare. Ma loro entravano dalla strada, varcando le montagne e sparando. Di lì è arrivato l'ordine di scappare verso Torino e siamo andati per 100 chilometri, siamo arrivati a Torino, a piedi, attraverso le campagne. Ma però a Torino eravamo circondati dei tedeschi perché loro erano entrati dalla strada e avevano già camminato con gli automezzi e erano arrivati a Torino. E di lì una buona parte ci hanno fatto prigionieri e ci hanno fatto salire sul treno merce e ci mettevano una settantina ogni carro merce, che avevano scaricato del bestiame prima, c'era la paglia così, 70 ogni, in attesa di partire e poi siamo andati sulla ferrovia e ci hanno portato, dicevano che andavamo in Germania. Lì è successo che a Codoggio di Piacenza si è fermato il treno perché era un treno a carbone, cioè non era elettrico, il treno... Allora c'erano quasi tutti a vapore, a carbone. E lì il treno si è fermato perché aspettava la coincidenza di un altro treno che veniva dall'opposto. E lì siamo stati fermi un bel pochino. E nel mentre, dato che eravamo tanti, ogni vagone era caldo, non c'era aria che circolava e qualcuno sveniva, allora hanno aperto i portoni scorrevoli, due palmi non di più, per avere la possibilità di respirare. E in quel tempo lì i tedeschi erano quattro, noi eravamo più di quattromila sul treno. Mentre loro camminavano avanti e indietro vicino al treno, sempre con la massa in pistola a tracolla, io avevo... avevamo un zainetto dietro noi, abbiamo preso un po' di roba prima di scappare. Avevo la gavetta dove si mangiava, ci ho chiesto al tedesco perché c'era una fontanina in stazione e noi erano due giorni che non si beveva. Forse non è stato il coraggio di scappare ma è stata la sete e la disperazione. E ci ho chiesto se mi lasciava prendere una gavetta d'acqua, e sono sesso dal treno e mi sono andato. Nel mentre lui ha raggiunto l'altro collega che era più avanti, ci ha spezzettato un pezzetto di cocomero che mangiava e io ho buttato via la gavetta e poi sono scappato come un raggio. Ero magro, 23 anni. Sono scappato e lui ha tirato fuori la massa in pistola e mi ha sparato dietro. Ma dietro di me, quando sono scappato, mi ha inseguito un altro, un amico, uno del genio, anche lui, militare, soldato, e lui ha preso la schiopettata nelle cose e si è andato a Cavalcioni nella rotaia del treno.